Maestro, cosa pensa di questo evento ormai entrato nella memoria collettiva di tutti? Ma questo evento fa pensare tante cose, fa pensare che questa Calabria è tanto amministratata perché abbiamo pochissimi uomini come praticamente Mimio Bursumi. Ogni paese della Calabria ci vorrebbe una persona così attiva, così fattiva e così capace che riesce addirittura a far fare la partenza da un paese piccolissimo di questa terra. Vuol dire che veramente è un genio, invece molti rappresentanti di tanti comuni importanti non fanno altro che affossare questo nostro paese. Quindi che benvengano gente come Bursumi. Io sono onorato che mi ha coinvolto in questa presentazione e anche io do una risposta che non faccio altro che fare il mio dovere. Il mio lavoro con rispetto delle regole ma soprattutto con la passione che bisognerebbe mettere tutti quanti nel campo, dalla politica all'artigianato, nelle altre professioni. Al prossimo episodio